Un decreto sulla concorrenza che rischia di dare ulteriore potere alle compagnie di assicurazione e mettere molto in difficoltà i carrozzieri? Un decreto che mette in difficoltà i carrozzieri, mette in difficoltà l'utente, mette in difficoltà tutto il mondo che ruota attorno all'RC Auto tranne che le compagnie di assicurazione che ne trarranno un grossissimo vantaggio economico e di potere, soprattutto di potere. Questa sera incontrate l'assessore Rossetti, che cosa chiedete alla politica? Alla politica chiediamo di sganciarsi per una volta da quelli che sono i poteri forti e pensare a quelli che sono i diritti veri dei cittadini. Quanto sono a rischio anche i diritti dei consumatori dietro questo tipo di operazioni? Sono i primi a rischio i diritti dei consumatori, in quanto si chiede ai consumatori di vendere, di cedere i propri diritti in cambio di un leggero sconto. È una vendita dei diritti, si chiede.